In che stima avete il maestro? Oddio cosa ha detto? Ma brava la mia pepina che mi lavora davanti e dietro le quinte! Mariani che voglio fare il regatore dei campi deserti! Beh l'ha presa abbastanza bene direi che... L'ha messa in siena, senza la siena, non va in siena! Ma non siete capaci di farla una giusta? Ma che brava a cagare! Maestro! Porco boia! Tenetemi un mezzo forte sul crescente! Avete presa i mezzi forti sul crescente? Voi sarete Teresa? Sì! La mia... Rita! Oh maestro! Sì! Io sono... Onorata! Che la messa in siena, senza la siena, non va in siena! Nooo! Nooo! Pepina no! Vuoi dire... Camillo du Locler lo fai venire qua? Quattro! 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 Un appunto di carattere critere interpretativ! Avete presente il appunto di carattere interpretativ? VANGER! VANGER! VISITAL BOSS OPPER VANGER BINKEN the OF BRING Grazie a tutti.